Salve a tutti amici, bentrovati da Stefano Ghetti, è arrivato l'anticiclone africano sul nostro paese, l'anticiclone delle Azzorre, si è fatto un po' vedere tra venerdì e sabato, ci ha regalato una parentesi di tempo abbastanza stabile ma con temperature decisamente gradevoli, poi dopo ha cominciato a perdere di energia, è arrivato qualche temporale e adesso addirittura si è ritirato in pieno Atlantico a causa di una saccatura in discesa dal nord Europa che ha puntato verso la Spagna e sta richiamando a questo punto l'aria più calda che risale dal nord Africa e che gonfierà questo anticiclone africano che diciamolo subito ci terrà compagnia praticamente fino alla fine della settimana, sul weekend potrebbe esserci qualche leggero disturbo di nuovo al nord ma davvero sembra cosa di poco conto, insomma prepariamoci ad una settimana di tempo piuttosto stabile ma soprattutto via via sempre più caldo perché le temperature faranno registrare un graduale e generale aumento, sull'Italia addirittura toccheremo punte prossime anche ai 40 gradi come succederà al sud, sulla Sicilia probabilmente anche sulla Sardegna, sul centro Italia toccheremo picchi intorno ai 36-37 gradi, al nord leggermente inferiori 34-35 ma ci penserà il fenomeno dell'AFA chiaramente a rendere il caldo decisamente molto fastidioso e attenzione anche alla notte torneremo a parlare di notti tropicali che come ormai ben sapete si considerano tali quando le temperature di notte non riescono a scendere sotto la soglia dei 20 gradi, insomma scoppia l'estate come del resto è giusto che sia perché stiamo per entrare in quello che è di solito il periodo tra i periodi più caldi dell'anno. Per ora è tutto amici, grazie per essere stati con noi, a più tardi!